Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Apriamo con la 11, in entrambe direzioni, coda per traffico intenso tra Capannori e Lucca Est e coda in uscita a Lucca Est. Segnaliamo un incidente tra Massarosa e Lucca Ovest, sulla diramazione Lucca Viareggio, in direzione Lucca. Il FIPILI è chiusa all'entrata di Ginestra Fiorentina, in direzione Livorno, ed è chiusa all'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Segnaliamo che il cantiere sulla FIPILI chiuderà il 31 dicembre, con un mese di anticipo, rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sull'SP12 e sull'autostrada 11. Passiamo ai treni e avvisiamo che per il Lucca Comics & Games potranno subire ritardo i treni in transito da Lucca. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze in viaggio.